Compagnia di Mattia Udo, Mattia un mese di novembre estremamente positivo per la Tezenis, quattro vittorie consecutive e la voglia di continuare a vincere. Sì assolutamente è un mese positivo, abbiamo avuto un inizio un po' difficile perché bisognava ancora inquadrare alcune cose, trovare degli equilibri, lo stiamo trovando, stiamo ancora lavorando ovviamente non siamo arrivati al risultato finale diciamo, però come ho detto stiamo trovando equilibri, si vede in campo, si vede partita dopo partita, ora ci sarà un test molto importante, quello di Montegranaro, che ci aiuterà a capire diciamo se la crescita sta continuando e se stiamo continuando a lavorare bene. Hai parlato della sfida di domenica contro Montegranaro, un'altra big del Girono ieri sera ha battuto 100 in casa di 100, come si affronta questa partita per provare a portare a casa il risultato? Come tutte le altre partite perché alla fine uno deve affrontare le partite sempre al 100%, con il massimo rispetto degli avversari, è sempre pronto appunto a giocare la propria pallacanestro. Noi sappiamo sicuramente ci sono alcuni accorgimenti tecnici che dovremo fare, sappiamo quali sono, ci stiamo lavorando già da inizio settimana e niente, secondo me sarà una partita molto importante che ci farà capire tante cose e penso che, anzi sono sicuro che rimarremo pronti per questa sfida.